Quanto è importante la diagnosi precoce e come recarsi dal corretto specialista? Le patologie reumatologiche e la diagnosi precoce è fondamentale perché se si ha una diagnosi precoce si arriva anche ad avere una cura precoce ma arrivare dal corretto specialista può essere non sempre scontato quindi è importante che le persone imparino a riconoscere i sintomi, i sintomi che il corpo dà e imparino anche ad esprimerli in maniera corretta al medico in modo che il medico di medicina generale invii immediatamente la persona dallo specialista che nel nostro caso è il reumatologo. Oggi ci sono delle terapie in grado di portare alla remissione dei sintomi che cosa significa questo per un paziente? La remissione è un obiettivo che oggi finalmente è possibile e fino a qualche anno fa purtroppo non c'era questa possibilità quindi la remissione significa riappropriarsi della propria vita nelle nostre patologie la qualità della vita è molto spesso bassa una vita non vivibile, una vita segnata dal dolore, una vita segnata da rinuncia una vita segnata anche dalla rinuncia al lavoro, dalla rinuncia alla vita di relazione la remissione significa riappropriarsi dei propri tempi, significa riuscire a vivere una vita normale nonostante la presenza di una patologia è ovvio che per raggiungere questo obiettivo bisogna seguire i consigli del medico non bisogna affidarsi al dottor google, non bisogna affidarsi ai consigli dei social ma bisogna seguire solo ed esclusivamente i consigli del medico ed è molto importante essere aderenti alla terapia quindi assumere i farmaci così come prescritto dal medico non interrompere la terapia al primo miglioramento che si possa vedere ma essere costanti nell'assunzione e avere fiducia nel medico perché magari non si avrà un risultato immediatamente al primo tentativo bisognerà probabilmente cambiare farmaco, provarne degli altri ma quando si ottiene il risultato definitivo sicuramente la qualità della vita sarà cambiata d'altronde è importante sottolineare che il medico non impone le mani e quindi il sapere scientifico prevede anche una serie di tentativi questo non significa che il medico non abbia capacità è semplicemente una risposta che il nostro corpo dà alle differenti terapie e quindi bisogna essere fiduciosi in questo Cosa fa la vostra associazione per divulgare ma soprattutto per aiutare i pazienti o i nuovi pazienti? La nostra associazione fa intanto tanta informazione perché siamo convinti che per riconoscere bisogna conoscere e quindi per riconoscere dei sintomi dati da patologie che sono tantissime le nostre patologie da una classificazione della società italiana di reumatologia superano le 150 oltre il 10% della popolazione italiana è affetta da una delle nostre patologie reumatiche e quindi la nostra associazione tenta di alzare l'attenzione su queste patologie ma non solo dal punto di vista informativo divulgativo nei confronti della cittadinanza ma anche in termini di advocacy quindi agire su quelle che sono le politiche sociali sanitarie del nostro del nostro paese proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei pazienti noi oggi abbiamo una serie di problemi all'interno del nostro servizio sanitario nazionale che rimane sicuramente uno dei migliori in Europa ma non sempre il cittadino ha questa percezione e abbiamo delle liste d'attesa che sono lunghissime e andrebbero abbattute quindi è necessario che la politica si occupi di questo abbiamo una carenza di personale all'interno dei presidi sia ambulatoriali che ospedalieri abbiamo necessità che i reumatologi quindi le persone che sono specializzate i medici che sono specializzati in reumatologia lavorino nei reparti negli ambulatori di reumatologia perché oggi li ritroviamo sparsi in tante altre aree terapeutiche abbiamo necessità che ci siano gli infermieri che seguono il paziente e abbiamo anche necessità che i livelli essenziali di assistenza siano adeguati a quelle che sono le esigenze di cura perché altrimenti non intercetteremo mai per tempo delle nuove patologie grazie a tutti grazie a tutti